che dice che suo fratello mi ha truffato mi ha givato praticamente tutto questo che state vedendo me l'ha givato tutto lui guardate quanti lanci halloween avete quanti lanci halloween ha cioè ma che giv oh mio dio dimmi oh mio dio grazie ma è tutto pieno non so cosa lascio e lascio questo cosa questo aspetta e devo lasciare lascio 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 guarda l'elemento guarda anche l'elemento in lì di quale di tutte e due questo che non l'ha tutto tanto aspetta ma è doppio elemento no no ma io non capisco quale lancia lancia Halloween mi hai dato perchè ne ho un botto eh vedi è uno elemento acqua e uno elemento io prendo questo mamma mia ma hai di questi hai di questi ah di piccoli hai definito aspetta ah no ho anche delle tracce ok no l'hai giustizia che ce l'ho tutta lì oh mio dio oh mio dio fra ma sei sicuro di dare tutto questo fra ma sei sicuro di dare tutto questo eh sì io direi di direi di sì direi di sì grazie io c'ho finito anch'io c'ho tutto lì non so cosa prendere ancora perchè ce l'ho vabbè vabbè io non prendo più nulla grazie fra eh se volete rimanere cosa? se volete rimanere perchè ora mi vado a fattare ah ok rimaniamo alan rimaniamo qua io devo spegnere ah ok ciao il mio amico deve spegnere ah ok un vizio non fa